Uè, la Vucat la di che i prossimi 600 euro arrivano in automatico A Vucat! A me non sono ancora arrivati la prima tranche Non so a voi, a me non sono ancora arrivati i primi 600 euro Non mi ricordo neanche più a che mesi erano riferiti Erano riferiti a marzo? Parlavo con un imprenditore e mi ha detto Io i soldi della Cassa Integrazione non me li aspettavo neanche Perché è la verità che al Brian Solo, la politica, gli fa solo venire i nervi E quindi lasciamo perdere di parlare dei politica Ma una cosa sola bisogna dirvi a voi Che non dovete fare i barlafis Barlafis! Lascia perdere di dire che vi diamo dei chi, dei là, dei su, dei giù Che poi non arriva niente Barlafis! Cicciara, cicciara e dopo? Come quelli che sono in giro a piangere misere Dopo c'hanno il macchinone Cumualè? Con i debiti e il macchinone Barlafis! E sapete cosa potevate fare per far felice il Brian Solo? Bastava dire una cosa 2020 in te tasse Eh? Era facile! Non è che noi vi aiutiamo, vi diamo Il Brian Solo non ha mai voluto i soldi dallo Stato Il Brian Solo quando riceve qualcosa ma non l'ha sudato lui va in difficoltà Cosa l'è? Prendo i soldi per cosa? Che non ho lavorato Non è abituato a prendere i soldi se non li ha sudati E tantomeno dallo Stato E allora bastava fare quello che dà sempre i sogni al Brian Solo Lo Stato prende e fa un passo indietro Fuera di bar Perché la politica è come l'arbitro di calcio Meno fischi più si gioca E quindi? E quindi? Famì al Barlafis che dici che dai soldi che poi non arrivano Perché il Brian Solo non vuole assegni Non vuole aiuti Non vuole sconti Non vuole niente da voi Vuole solo che lo lasciate in pace Lo lasciate lavorare Marafis! 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 Marafis!